Le immagini ci arrivano in diretta dalla griglia di partenza dove tecnici e ingegneri stanno portando gli ultimi controlli alla moto prima del via. Tutti i piloti sono schierati sulla griglia di partenza. Comincia il conto alla rovescia per lo spegnimento del semaforo. Ancora pochi istanti e avrà inizio il Gran Premio di Thailandia! Grazie per la visione! 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 Grazie. 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 Prendiamo la linea dal Parc Fermet con il vincitore che oggi ci ha regalato una gara perfetta. Oltre alla vittoria questo ragazzo ha conquistato 25 punti importantissimi per la classifica del mondiale. Eccoci in diretta per la cerimonia di chiusura del Gran Premio. I tre ragazzi che stanno salendo sul podio in questo momento ci hanno regalato una gara stupenda e ora possono godersi tutto il calore del pubblico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.